Ecco, come avevo detto nel commento, FIFA o Call of Duty con una sfida. Quando morirò, cioè nel gioco non veramente, mi metterò a cantare una canzoncina così che mi passa. Perciò buona visione e... andiamo. Adesso mi direi di sempre perché non hai Advanced Warfare. Perché, perché, perché... è così, è così la vita ragazzi. Non posso fare altro. Questi sono i giochi. Tanto quando andremo a Londra ci sarà Titanfall, che me l'ha preso Paolo. E ci sarà FIFA 15, che ce l'ho già però... cioè ci giocherò con Paolo ovviamente. Che Paolo non ce l'ho... cioè è da due video che non ci sta, eh? Due video con questo. Nooo, non pensavo che era Starmer. O almeno con questo mirino. Ecco, intanto qua ci sono trovando a registrare. Oddio mio. Togli sto mirino, sennò qua te vedo, eh? Aspetta, abbassa, abbassa, sennò veramente. Ecco, qua si abbassa alla lento d'Ucì. Oddio, mi ha fatto prendere un colpo, li stavo preparando. Grazie per la tua armo, amico. Miseria. Suddicio. Ambarapanta. Ti chiudo, tempido misericordio. Pensavo che erano delle scale. Ups. E' coppia. Lo so, io a cantare faccio schifo. Meglio se non facevo sta sfida. Ah, non mi ricordavo manco come si correva. Mi sai? Sì, mi hai visto? E vai. Come andiamo a saltare? Ah, il cuore. Che bello. Wow. Aia. Promeo vendicato. Ecco, saliamo le scale. Oddio, mi dovete spiegare come sto facendo. Cioè, veramente. Le peggiori cose soltanto su questo gioco, la miseria. Non su Advanced Warfare. Vabbè, forse su Advanced Warfare, tipo, avrei dovuto servire di ciccio gamer le ballerine volanti. Ho la miseria. Io sono abituato un po' con questo, perciò, cioè, quando si farà Titanfall non ci capirò niente. Cioè, mi dovete un po' spiegare come Titanfall non lo conosco. Io preferisco l'armi bene che le finte. Cioè, quelle, si può dire che sono finte? Perché non sono reali. Oh, la madonna. Non ci credo. Ma si sa, eh. Wow. Wow. Si travi... Per caso che non si può usare i veicoli? Spero che... Ma in te è un forno, ma in te è un forno, mi sa di sì. Veloce come un letto. In serio? Oh, cambi sto merino. Sarà per la prossima volta. Comunque sarà una be... Sarà una partita proprio... Non ci sale. Che pizza. Tipo Assassin's Creed dovevo fare. Ah, ecco Assassin's Creed. Ecco Assassin's Creed. Ma si può essere un'opera. Ho capito tutto. Adesso la mia vita ha un senso, finalmente. Ma sì, spero qua. Dove va? Ah, va nel nulla, disperso e mi arriva in faccia. Sì. Ehm... Chi sei? Ecco la granata. Granata al cavolo! No, era un fumogeno. Comunque sì, è la stessa cosa, è vero? Ma dai, scherzo. Chi è che mi ha sparato? Non vuoi parlare? Hai parlato? No, vabbè, è la stessa cosa. Che arma c'aveva questa? Non si può nemmeno prendere. È a fuoco! Ma... Mi faccio male? No. Come il signore del fuoco, come si può... La 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 la... Che schifezza come canto. No, ci voglio riprovare. Ah, secondo me era un bug tutta... No, oh! No, se ci riuscivo. Cioè, come fa? Si aggrappa con una mano. Si spara il vetro? Va bene, ho capito tutto. Il vetro è come se spari... A qualcosa di metallico, ho capito. Ah, che cos'era questo? Ah, no. Va bene, sono il re del mondo. No. Cosa c'è là? Ah, pensavo tipo chissà che cosa la miseria. Invece... Sono il re del mondo! Sono il re di Assassin's Creed. Oddio! Oddio! Ecco, là mi è successo qualcosa. No, la miseria! Mi ha fatto prendere un colpo! Porca miseria! La miseria! Mi ha fatto... Oh, sono un po' di inaria la miseria! Vabbè, quella è la assista. Ho visto lì. La, la, la... Di, i, o... Come ha fatto questo? Cioè, per questa sfida mi dovete dare 30 euro. No, dai, scherzo. Non si possono prendere alcune armi. Ma forse batteranno già per far fuori. La miseria! Inferioni! Scommetto che ce n'è un luco. No. C'era! Dovete spiegare chi l'ha lanciato per il mondo. Fumagino! Non ha visto niente nessuno! Oh, la miseria! Oh, la miseria! C'è la pompa? Era giusto per fare le scene. Muori, vetro! Muori, vetro! Muori! Che giuria! Chi ha capato il buono e il vetro fresco? Vabbè, chi sei? Perché? Vabbè. Ho capito tutto. Ti ho visto. La, 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 non lo voglio rivedere. Ah, infatti mi ammazzò l'altro. Eh, eh, eh! Oh, dai! Devo passare! No, sono una signora. No, che signora! Cioè, io stavo coperto. Però... La, 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 la. Vabbè. Cioè, lui ha sparato al vetro, che il vetro è nato da me, E che poi mi ha ucciso Sì No, no, è la miseria Stiamo vincendo, li stiamo schiacciando Per andare alla cattaraccia Come ti permetti? Con la miseria Oh, al micro Questa va forte Assassin creed No, ahia Mi ho fatto male Sto con la femmina Perciò dico, mi sono fatto male Cioè, è ovvio Assassin creed In call of duty Ahia E va in munition Che è questa roba Per chiedere la porta Che figata assurda Per aprire la porta Ho capito tutto Abbattaccia Ticciutu Ammazza È una miseria Penso che mi hanno ammazzato con più dignità Penso che era un uomo Vabbè Non si può ritrovare Aiuto Qualcuno mi ha benedicato Ti ho visto, sai? Chi incontra muore Chi incontra muore Vabbè Ovviamente Non chiedo lontano Bel minerino Bel minerino Abbattuto Wow Come vedete Ho messo 150 M16 M16 Mi sa di sì Anche Ciao Ci possono sparare Quanto vi pare Diceva Sbarateci Quanto vi pare Oh Oh mio Dio Dai Cioè Non ammazzi uno Non ammazzi un altro No Invece no Ci siamo visti Ci siamo visti Ci siamo visti Sì La 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 Tra la la Il concerto Tra la la L'ho fatto Niente In pratica Cioè Mi dovete spiegare Chi mi ha messo Sto merino Ah io Ho capito Inoltre Sì Ci siamo capiti No Ma si Maledetto Ti voglio ammazzare No dai Vabbè Non muore No cioè Cioè Ho ricaricato Da solo Vabbè Senza che io Gli ho detto Stiamo vincendo Ah io Ho capito 13 La miseria Senza diceva Ma che stiamo vincendo Calma La coppa del 9 Mio Dio Perché Come ha fatto A prendermi così Se era un fucile Un fucile a pompa Vabbè Sfile Io di solito Quando sparò L'ambio Prendo Non prendo Quello Prendo L'entallo Vabbè Voi trascheggiato E ripolito Non si può chiudere Questo E' figa Anche Questa mappa Perché Ti puoi chiudere Dentro Una cosa del genere E se Un nemico Scappa Voglio sparare Perché Non hai un'arma Vero Ma poi Il brutto Di quest'arma È che si Vero Il mierino Cioè Il mierino Laser A me mi fa Ma proprio schifo Il mierino Poi ho incorporato Già c'è Nell'arma O gliel'ho messo io Ma Cioè Voi mi avete visto Io gliel'ho messo Sto mierino Poi Poi questa È anche un'arma Bellissima Però È il mierino La miseria Ci vorrebbe Anche una Tanna Lisce Così A me Non scurre Dicevo Si sono ammazzati Da fuori E io invece Adesso Ti ammazzo Fucile a pompa Infermabile Ma la miseria L'ho ammazzato L'ho ammazzato io Vero No Cioè Mi dovete spiegare Boh 32 Romanista Non vedi Romanista La miseria Vabbè I romanisti Nemo ancora Tipo 4 minuti Ragazzi E allora Vabbè Vabbè Dai Vogliamo Voglio un attimo Vedere Qui Almeno Poi il colore Nessuno Infatti Allora Io mi metto Greta di guerra Rete Ma secondo me Non era L'arma Che dicevo io Vabbè Io se non Mi metto La lunga Che bellissima Le mob Ah Sottocanna E E Questa È bella 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 E poi Questa A me Mi piacerebbe Però Per l'abilità Però Aspetta Supporto Sennò Specialista È Figo Assalto Però A me Mi piace Mi piace Come questi Tipo Il cane Tipo A me Il cane Da guardia Che è bellissimo La torretta Beh A me la torretta Non è che serve Tanto I razzi Belli Ma Che è questo Il Loki Cioè in pratica C'ha un mazzo I nemici Fichissimo Però 15 punti Hai detto niente Sì Con questo Si va Con questo Non arriverò mai A sto Loki Qua O A razza Forse Sì Si può Se facciamo La partita Quella La Ci dovrei Arrivare Vorrei Farle Vedete Se ci sto Vediamo Bella Bella E poi Questa È Un'arma Che La Dovrò Cancellare Questa Mi piace Questa Magari Aspetta 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 No Ma Equip No Dai Copia Selezion Mombra Squad Il Romanista Eccolo Là Che bello Il Romanista Vabbè Non ha le impostazioni Che Le Bello Ragazzi Il video È anche Durato Troppo Secondo Ma Per i miei Gusti Ragazzi Bello A tutti E Spero Che il video Vi sia Piaciuto Ciao Ciao